Io ho delle pastiglie, ho delle pastiglie, sono quelle che si squadra, perché io avevo le buose, le boraciline, gli antibiotici ho Ma questa qua le antibiotici sono come caramelle, no? Ma che è? Quanto male? Quanto male, c'è un po' di mal di testa, prende l'antibiotico, non c'entra niente Questa cosa sto combinando, il tempo mi scrive blu, sto registrando, ora mi scrive blu Questa sembra adesso, sembra una maestrina dell'asilo Eh, di coca, non so che c'è la procedura No, veramente, sembra una maestra asilo, sembra una maestra, più che una maestra sembra Eh, dà, c'è tra bambini, c'è tra i prati Eh, se c'è troppo rosso probabilmente Rosso? Eh, come faccio? Non aveva niente, è chiaro Eh, le imparano, usavano Cosa avete combinato? No, è facile Sai, le leggere, le leggere le istruzioni, è un casino Sì, ma è come quando le compri un bese, tre sette ore, una radio, quelle lì C'erano altre funzioni, quelle cose lì Uno va a leggere le istruzioni, non le capisce mai, quello usa sempre le stesse Si, si termina lì Quello che c'è, si termina lì Non è andrò mica io, niente pacco No Ma che Si, niente Eh? Si, è il primo corpo Cinque, subito il quadro E' un bel vino aria, come avevo trascorsi No, ma tanto, questo è tutto, mi sembrava presto La prima, quando aveva appartizzato la mattina Andrea me lo stava, me lo stava comprando poi dopo Cosa? Pensavo che io l'avessi comprato, ma lì sta succiosto No Pensavo che l'avessi comprato invece Andrea, niente pacco Puoi anche fare meglio di comprare 168, ci sono quelle strisce che si mettono in mezzo E' memorizzato? Ce l'hai memorizzato? No Asci il 40, l'ho memorizzato io Si, memorizzato tutte due memorizzate Eh? Ma scusa? Si, era memorizzato uno M1, eh, l'ho memorizzato io, non so Si Ma è la vecchia Nui? Eh appunto, la vecchia Nui, deve andare a... Non c'è da più Come funziona? E' la vecchia Nui Ah lo so, la vende con la nuova Eh appunto Ma l'hai memorizzato o preferisci di no? No, tanto non è mio proibito, poi anche l'hai memorizzato Ma Itapak appunto Itapak sei una Nui altrui? E' lo stesso come una pasta altrui Certo 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 Che c'è gay Ma poi dai, hai trovato adesso Bara Questo qua si è l'altro che ho fatto Si, aspetta Questo qua Ma ti trovo, 3,6 3,6 Io sono qua Ma cosa fai? Mi riposo Mi riposo nella cuoria Mi riposo nella cuoria Cosa è nella cuoria? E' un zoom E' arondonato tutto, ma sempre vicino no no ma non devi prendere che oggi sono orrenda eh lo so come lo so no lo so sei male un cazzo no lo so perché l'hai detto tu se tu che lo dici se tu che lo dici se tu che dici se tu che dici se tu che dici se tu vieni anche meglio perché di persona fai ancora più schifo dai non volevo dire quello tu hai detto sto male e infatti si vede sto male sono stacco sei stacco no, hai detto tremerzo capelicione non ti sto parlando ma non mi senti se ti fermarsi solo un momento si culerei come per il vento capelicione capelicione nel tuo sorriso c'è il paradiso con gli occhi grandi prometti il sole ma poi fa tanto male il cuore capelicione 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 che c'è detto solo rimasto fuori come nel tuo cuore c'è anche un po' di me